Dunque, grazie ancora per l'introduzione e per darmi l'opportunità di parlare di queste cose e diciamo che è stata anche l'occasione questa per riprendere in mano un po' del materiale che avevo da parte e per rendermi conto che non era poi così tanto in ordine, quindi è stata l'occasione per fare un po' d'ordine tra le tante cose che avevo raccolto. Prima di iniziare un ringraziamento pubblico per una serie di persone che in questo periodo sono state in questo periodo difficile di chiusura di biblioteche e archivi di grande aiuto nel condividere con me idee, materiali, immagini, scansioni e mi avvio a iniziare. Il Forastiero di Giulio Cesare Capaccio, pubblicato a Napoli nel 1634, è un dialogo che si sviluppa in dieci giornate e vede protagonisti il cittadino e il forestiero, quello che dà il suo nome all'opera. La giornata ottava è dedicata agli stranieri a Napoli e appunto intitolata degli abitatori di varie nazioni nella città di Napoli. Si parla sia delle diverse dominazioni di Napoli sia delle diverse comunità forestiere che hanno nobilitato la città e si aggiunge, cito, crederò sicuramente che non sono le stelle ma i commerzi che rendono così illustre Ormus in Persia e che Goa nell'India orientale dai vari marcanti che per le gioie vi concorrono sia nobilitata. In quei paesi che fe così celebre Ambersa e nella Frisia come si fe illustre Hamster ledamo e vedete se in Spagna fosse divenuta così celebre Siviglia e Lisboa senza il concorso di tante nazioni che l'abitano. Avemo pur veduto, oppure vedete che direste di Parigi, avemo pur veduto un picciol castello con l'abitazione di venir città e tutto per il commercio delle genti che navigando e peregrinando le ferono popolate e nobili. Il cittadino è scettico sull'influsso che hanno le stelle sulla fortuna e la prosperità delle città e ne nomina alcune procedendo dall'Oriente passando per il nord Europa fino ad arrivare alla penisola iberica e alla Francia che invece si fecero popolate e nobili per il gran numero di genti straniere che vi si stabilirono. La tesi del cittadino si sviluppa poi suggerendo che negli stessi effetti benefici si sia giovata Napoli ed è quindi su tre comunità nazionali che mi concentrerò oggi. Tre saranno i polli di questo incontro, la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, quella di Sant'Anna dei Lombardi, quella di San Giorgio dei Genovesi. Queste, come le omologhe chiese nazionali a Roma, oggetto di studio più sistematico e comparato, rappresentavano non solo il luogo di sepoltura di coloro che morivano a Napoli o dove si concentravano i patronati di cappelle di alcune famiglie fiorentine, lombarde o genovesi, ma fungevano anche da rappresentanze ufficiose della madrepatria nel paese ospitante. Parlo di rappresentanze ufficiose e non ufficiali perché la nazionazione, cioè la comunità straniera all'estero, era in realtà indipendente dalla madrepatria e teneva pure a bada le ingerenze nella propria amministrazione del paese ospitante. In ogni caso, i consuli della nazione genovese necessitavano della ratifica della loro elezione da parte del doge in carica a Genova. Inoltre, il Gran Ducato di Toscana mantenne sempre un agente a Napoli come uomo di propria fiducia per servire la corte e informarla di quanto avveniva nel viceregno. Le naziones forestiere e non straniere, di cui vi parlo oggi, perché accomunate con Napoli da una lingua molto simile, se non la stessa, di cui vi parlerò oggi, si diedero diverse forme di autogoverno, ma queste ricadono soprattutto sotto la tipologia del consolato, con un console eletto, consiglieri, un camerlengo e alcune altre figure deputate invece alla gestione e manutenzione della Chiesa nazionale. Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, quindi per Napoli tra il periodo angioino e quello aragonese, grosso modo tra la metà del 300 e la metà del 400, le colonie straniere e forestiere si concentrarono nella parte bassa della città, quella più vicina alle porte urbiche che facciavano sulla marina e sul porto. Molto poco rimane di queste prime concentrazioni basso medievali, se non nella toponomastica. La parte più bassa dell'attuale via Duomo vede la rua Toscana, la rua Scalesia, la rua Francesca, la rua Catalana, a indicare la concentrazione in quell'area di diversi gruppi di mercanti toscani, Scalesi, cioè provenienti da Scala vicino Ravello, francesi e catalani. Parlare delle chiese forestiere a Napoli nel 500 significa parlare anche di un trasferimento e o di un affrancamento. Tutte e tre queste nazioni, se infatti, erano titolari di cappelle, o in un caso di una piccola chiesa, all'interno di chiese di ordini religiosi, dominicani, francescani e carmelitani. Il desiderio di non essere soggetti agli ordini religiosi spinse queste comunità a scegliere nuove chiese o edificarne di nuove per mostrare in autonomia la propria identità, rivendicata come diversa da quella del contesto in cui si trovavano. Rispetto a chi lavora sulle chiese nazionali a Roma, le chiese nazionali a Napoli restituiscono una realtà più frammentaria, siccome solo a voler rimanere sui tre casi di oggi, l'unica chiesa a esistere ancora, pur non aperta al pubblico, è San Giorgio dei Genovesi, mentre la chiesa dei Lombardi è andata distrutta nei primi anni dell'Ottocento e quella dei Fiorentini è stata demolita nel 1953. Inoltre, le chiese napoletane si inserivano in una città che era la capitale di un viceregno spagnolo, per il periodo che prenderò in considerazione oggi, e non, come quelle romane, la capitale del Cattolicesimo. I governi di Firenze e Genova dovevano molto della loro stabilità all'approvazione e alla benevolenza di Carlo V d'Asburgo, mentre Milano, altro non era che la capitale di un altro dominio spagnolo. Infine, proprio come avvenne a Roma, dove le chiese di Francia, Spagna e Impero si concentravano tutte attorno a Piazza Navona, così a Napoli, tre nazioni più piccole ma non meno orgogliose, si concentrarono nel territorio di Santa Marta. Vi mostro qui due immagini, una tratta dalla pianta interattiva, resa interattiva da un progetto della Biblioteca Arziana di Roma, la mappa topografica della cittadinanza, Napoli e dei suoi contorni del Duca di Noia del 1775 e le chiese di cui vi parlerò oggi sono quelle ai numeri 85, 400 San Giorgio dei Genovesi 85, 400 San Giovanni dei Fiorentini e 102 Sant'Anna dei Lombardi, mentre a destra è la vista dal satellite di questa stessa area, particolarmente modificata alla metà del Novecento. Allo stesso modo, dicevo, sorgevano a ridosso di quest'area anche San Giacomo degli Spagnoli, in basso al centro in entrambe le due immagini, oggi inglobata in Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio, ma anche la chiesa dei Santi Pietro e Paolo dei Greci di Santa Margherita, poi Santa Maria dell'Anima dei tedeschi. Il rilievo che la nazione francese che si riuniva nella chiesa di Sant'Eligio ai Orefici aveva durante il periodo angioino ebbe un evidente declino in età moderna, chiara espressione di un'amministrazione per così dire francofoba. Andiamo quindi con ordine. I Fiorentini sono presenti a Napoli fin dal Trecento ed è noto l'impiego di Giovanni Boccaccio presso i Peruzzi, quando era a Napoli. A Bertuccio Taddei, banchiere di Roberto D'Angio e console della nazione nel 1309, furono concessi dal sovrano alcuni privilegi, principalmente esenzioni sui dazzi doganali e facilitazioni di natura economica, a cui se ne aggiunsero altre di natura giurisdizionale. Le cause tra i Fiorentini sarebbero infatti state decise da un tribunale interno alla nazione, grazie all'interessamento di Giovanna II D'Angio Durazzo. Seguirono altre conferme e estensioni dei privilegi nel periodo aragonese, certamente facilitati dal ruolo di banchiere di corte svolto da diversi membri della famiglia Strozi. La presenza degli Strozi a Napoli è anch'essa nota e resa anche più evidente dal fatto che una tra le più famose vedute della Napoli tardo quattrocentesca è proprio la tavola Strozi, rinvenuta nel Palazzo Fiorentino di Famiglia nel 1901, oggi conservata presso il Museo della Certosa di San Martino. Filippo Strozi il Vecchio era stato agente del Banco Medici a Napoli alla metà del Quattrocento, ne aveva fondato uno proprio con i fratelli Lorenzo e Matteo nel 1468. Yves Bursuk, rintracciando alcune lettere intercorse tra membri della famiglia tra Firenze e Napoli, dimostrò come alla morte del fratello più giovane Matteo il primogenito Filippo volesse erigere per lui una sepoltura in una chiesa napoletana e che la volesse far valutare allo scultore Antonio Rossellino a Napoli per montare le sculture della Cappella Piccolomini in Monte Oliveto. Questo progetto sfumò allorquando Filippo alla fine del 1478 decise di costruire il sepolcro di Matteo nel coro della chiesa dell'eremo di Lecceto vicino a Siena. La studiosa non riconosceva con precisione la chiesa dedicata a Santa Maria in cui il sepolcro andava realizzato, ma questa andrà certamente individuata nella chiesa di Santa Maria ad Portellam o di San Giovanni alla Marina del Vino, cioè la prima chiesa della nazione fiorentina a Napoli. In questo dettaglio dalla tavola strozzi, con colori un po' falsati, vi mostro l'area nei pressi della porta del Caputo, che è questa qui, e di San Pietro Martire, compresa tra questi due elementi monumentali si trovava la chiesa di Santa Maria ad Portellam. Questa, la chiesa di Santa Maria ad Portellam, sorgeva nei pressi della porta del Caputo e nella parte bassa della città, quella più vicina al porto, ed era censuaria, cioè pagava un tributo anno alla chiesa domenicana di San Pietro Martire, che fiancheggia Corso Umberto I. Nel 1557 la nazione fiorentina decise di trasferire la propria chiesa nella piccola fondazione dedicata a San Vincenzo, già sede della nazione spagnola dal 1540, e che la lasciò libera per trasferirsi in una chiesa ancora più centrale, San Giacomo degli Spagnoli. A facilitare il trasferimento della chiesa della nazione fiorentina ci fu certamente Pedro di Toledo, vicere di Napoli per vent'anni, che pur morendo nel 1553 ebbe un occhio di riguardo non solo per la sua nazione, la spagnola, ma anche per quella fiorentina, siccome Eleonora, la sua secondogenita, aveva sposato Cosimo I dei Medici nel 1539 ed era quindi duchessa consorte di Toscana. Nel territorio di Santa Marta, l'attuale zona dei Guantai Nuovi, compresa tra le attuali via Toledo e via Medina, allora il largo delle Corregge, si concentravano molti terreni di proprietà del convento dominicano di San Domenico Maggiore, e fu interessato questo territorio per tutta la seconda metà del Cinquecento dal trasferimento di diverse nazioni che decisero di insediarsi qui per lo spostamento verso oriente dei luoghi del potere, cioè del Palazzo Vicereale, non più esistente, ma che occupava lo spazio compreso tra Palazzo Reale e il Teatro San Carlo. Per facilitare il collegamento con via Toledo, la nuova arteria cittadina che collegava il centro antico con il Palazzo Reale, l'ambiziosa nazione ottenne anche l'autorizzazione dall'ufficio competente, i deputati di fortificazione e mattonata, per demolire un tratto di antiche mura che negava alla nazione l'accesso diretto su via Toledo. Vi mostro qui un'immagine, una fotografia storica della metà degli anni Quaranta del Novecento, in cui si vede lo sbocco su via Toledo in secondo piano e le demolizioni che circondano la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, più che dovute a danni dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, sono frutto di una demolizione sistematica per una ricostruzione a fini residenziali di quest'area. In particolare l'area che vedete sulla destra corrisponde all'attuale largo Berlinguer, dove si trova la fermata della metropolitana Toledo. Attraverso un documento inedito è possibile ricostruire con grande precisione quali furono i mercanti fiorentini a Napoli che sponsorizzarono il trasferimento della chiesa in un nuovo edificio e il suo rinnovamento strutturale, in particolare la parte absidale che doveva andare incontro a nuove disposizioni controriformate. A un pagamento iniziale di 900 ducati seguirono versamenti annuali di 56. Molti tra i primi contribuenti di San Giovanni dei Fiorentini acquistarono diritti di patronato per una cappella all'interno della chiesa. Nel 1565, con la bolla di Papa Pio V, la chiesa fu fatta parrocchia per la nazione tantum, cioè per i suoi fiorentini. La decorazione della chiesa avvenne in due fasi. Una prima, 1565-1571, a opera del pittore senese ma naturalizzato napoletano Marco Pino. Una successiva, tra il 75 e l'85, a opera dei pittori dello studiologio Francesco I De Medici in Palazzo Vecchio, Francesco Morandini, detto il Poppi, che completò una tavola iniziata dal maestro Giorgio Vasari e Girolamo Macchietti, le cui opere sono andate distrutte e di un allievo del Macchietti, forse da riconoscere in questo fumoso Giovanni Battista Falcandi o da Falgano, una figura non del tutto chiara. Nel primo decennio del 600, poi, la chiesa potrebbe dirsi compiuta grazie alla decorazione del soffitto a cassettoni con tavole di Giovanni Balducci, Pompeo Caccini e Teodoro Del Rico. Vi mostro qui una foto della stessa campagna fotografica della metà degli anni 40, che mostra il soffitto settecentesco, costruito reinserendo esclusivamente le tavole di Giovanni Balducci, non quelle di Teodoro Del Rico, che erano andate distrutte, e nemmeno quella di Pompeo Caccini, che si conserva tuttora. Vi mostro questo soffitto a confronto di quello di Santa Maria la Nova, assai più ricco di questi stessi anni, realizzato nell'ultimo lustro del Cinquecento, perché dobbiamo immaginare qualcosa di analogo anche per San Giovanni dei Fiorentini, siccome gli stessi maestri legnaioli e indoratori lavorarono ai due soffitti. Oltre al soffitto fu realizzato anche un apostolato in scultura, realizzato da Michelangelo Naccherino, Pietro Bernini, Tommaso Montani e Francesco Cassano. La chiesa dei Fiorentini godette dell'interesse di diverse famiglie, che acquistarono patronati di cappelle, e la situazione alla fine del Cinquecento, a prestar fede alla visita pastorale del cardinale Annibale di Capua del 1586, appariva come vi mostro. Già nei primi decenni del Seicento, la nazione subì duri colpi ai suoi negozi, chiara conseguenza dello strapotere dei genovesi. Esattamente un secolo dopo la visita pastorale del 1586, siamo nel 1686, un agente del Granduca, l'abbate Leonardo Leonardi, restituiva un'immagine piuttosto squallida dell'edificio, e a suo dire la situazione dei patronati era cambiata nel modo che vi mostro. Eppure, Leonardi non si dimostra particolarmente preciso, quindi credo che questa ricostruzione vada vagliata ulteriormente. Il terremoto del 1688 causò danni anche alla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Le venne in soccorso il Granduca Cosimo III, che nel frattempo era stato autorizzato a scegliere personalmente la figura del console. Il console non veniva quindi più eletto, ma era selezionato, dal Granduca. Nel 1700 Ferdinando Fuga fornì il disegno per l'altare ancora visibile nelle fotografie storiche. Nel 1802, poi, Ferdinando IV di Borbone esentò la nazione, ridotta a pochi membri, dal censo annuo ancora dovuto ai dominicani. La chiesa fu al centro di un brutto episodio di speculazione edilizia durante il Novecento. Il progetto di miglioramento a fini residenziali del quartiere avrebbe dovuto risparmiare in un primo momento le chiese, ma con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la lottizzazione e la vendita dei terreni dell'area, anche San Giovanni dei Fiorentini fu demolita nel 1953. Le sculture furono portate sull'altare maggiore dell'incoronata madre del Buon Consiglio a Capodimonte, mentre le pale d'altare in una nuova chiesa fondata con lo stesso nome albumero alla Renella. E vi si trovano tuttora. Le lapidi in marmo delle sepolture, i monumenti funebri scomposti, furono smontati, spesso ridotti in pezzi e trasferiti nella cripta dei Santissimi Apostoli, dove si trovano. Nel caso della Chiesa della Nazione Fiorentina, non sono tanto i temi rappresentati nelle pale d'altare a essere fiorentino-centrici, ma lo è senz'altro la scelta degli artisti coinvolti nella decorazione della chiesa. Senese Marco Pino, Fiorentini, Il Poppi, Macchietti, Balducci e Caccini, eppure Fiorentini gli scultori Naccherino, Bernini, Dosio e Montani. Ci furono delle eccezioni a questo gusto autarchico, Teodoro Del Rico tra i pittori e Francesco Cassano tra gli scultori, ma in linea di massima sembra che i fiorentini seguano un dirizzo artistico ben preciso, riassumibile nel motto Prima i Fiorentini. Veniamo al secondo caso, i Lombardi, che si noti sono lombardi e non milanesi. Così come a Roma, anche a Napoli, la Nazione Lombarda ospitava una realtà non limitata geograficamente al governatorato di Milano, si noti come Napoli e Milano fossero entrambi i domini spagnoli, diversamente da Genova, che manteneva invece una propria autonomia di Repubblica, nonostante gli strettissimi rapporti con la Spagna. Alla Nazione Lombarda facevano capo anche Bergamo e Brescia, Torino, Mantua, Bologna, Ferrara e fino anche Venezia. Queste numerose anime della Nazione Lombarda trovavano espressione anche nella tavola andata perduta, che si trovava nella cappella dedicata a Sant'Anna, nella Basilica della Madonna del Carmine. Qui, oltre a una pala rappresentante la Santa titolare al centro in alto, vi erano anche due quadri rappresentanti a sinistra per i milanesi Sant'Ambrogio e a destra San Marco per i veneziani. Il giorno di Sant'Antonio Abbate, il 17 gennaio, ai Bergamaschi era consentito di occupare l'altare con una pala rappresentante il loro santo protettore. La Nazione Lombarda si consociò in una confrateria dei nazionali lombardi nel 1492 e i cinque governatori della confraternita, responsabili anche della Chiesa, erano eletti ogni 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abbate. Le informazioni sulla vita della confraternita e della Nazione, le due espressioni risultano quasi interscambiabili in questo caso, provengono non da documenti, ma da un libricino pubblicato nel 1626 dal notaio della Nazione, Giulio Cesare Aversano, che si serviva di documenti antichi andati perduti. Anche la Nazione dei Lombardi aveva i propri statuti, che venivano ampliati e corretti periodicamente, e prevedeva una divisione in due classi dei suoi membri, quindi degli elettori, dei governatori. La prima classe era costituita da altolocati, nobili e ricchi mercanti, la seconda da personaggi più umili, operai e artigiani, o artisti, come si trova nelle fonti dell'epoca. Oltre alla provenienza variegata dal nord Italia dei suoi membri, quella di queste due classi sociali è un'altra caratteristica che la Nazione Lombarda a Napoli condivise con quella che era Roma. I Lombardi, in particolare quelli provenienti dalla Regione dei Laghi, erano anche manovali, scalpellini, stuccatori e scultori. Cosimo Fanzago fu un membro celeberrimo di questa categoria professionale. Diversamente da quanto avveniva per la Nazione Fiorentina, dove gli artisti non avevano voce in capitolo sulle decisioni che riguardavano l'elezione del Consul e l'amministrazione della Chiesa, così non era per i Lombardi, forse perché la presenza di professionisti specializzati nell'edilizia era maggiore in questa nazione di quanto non lo fosse nella Toscana. I Lombardi avevano invece una cappella nella Chiesa dei Carmelitani, in Santa Maria del Carmine, che vi mostro in basso a destra in questa slide, in Piazza Mercato. Ma per uscire dalla soggezione dei frati, come scrive il Sigismondo nel 1788, dietro iniziativa dei governatori della cappella, i milanesi Adriano delle Terre, Battista Morone e il bolognese Niccolò Basso, decisero nel 1582 di trasferirsi anche loro nella parte orientale della città, nei pressi della Porta Reale, dove trovarono uno spazio verde edificabile, detto al bianco mangiare, che acquisirono dall'ospedale dei pellegrini. Un'area che corrisponde a quella che oggi è compresa tra via Montioliveto, la parte alta di via Montioliveto, quella più vicina alla Chiesa dello Spirito Santo, e via Toledo, quella indicata dalla freccia sinistra. Entro il 1599, anno della visita pastorale del cardinale Alfonso Gesualdo, avevano pressoché completato l'edificazione della Chiesa. Una lettera del nunzio apostolico a Napoli, Jacopo Aldobrandini, scritta nel 1594 a Cinzio Passeri Aldobrandini, cardinal nepote di Clemente VIII, fa luce sull'edificazione del Tempio e sul modello che per questo rappresentò la Chiesa di Fiorentini, che contemporaneamente il nunzio stava aiutando a completare con un soffitto dorato a cassettoni con il proprio stemma. Leggo dalla lettera. Non si reputa che questa possa essere di pregiudizio tale alle altre parrocchie che se ne deva sentire querele, perché la detta nazione è sparsa per tutta la città e poco toccherà perdere per ciascuna, e con quella dove è situata la detta Chiesa sperano poter facilmente convenire. Il nunzio apostolico conferma quanto doveva essere già noto al cardinale Passeri Aldobrandini sul fatto che la Chiesa era pressoché finita e confermava il desiderio dei nazionali lombardi, che si servivano di lui attento alle esigenze della propria nazione, quella fiorentina, affinché anche la nazione lombarda ottenesse lo status di parrocchia. E rassicurava il nunzio apostolico il cardinale Passeri Aldobrandini dicendo che non ci sarebbero dovute essere lamentele da parte delle altre parrocchie perché questa parrocchia avrebbe insistito non su di un'area ma su alcuni individui, su una nazione sparsa per l'intera città. Per i lombardi, così come per i genovesi, non disponiamo di un elenco preciso dei sottoscrittori del contratto con cui fu acquistato il nuovo terreno. Sappiamo però che la costruzione dovette avvenire tra il 1582 e il 1596 e forse agli ultimi anni del secolo si può datare la realizzazione della palla d'altare attribuita da tutte le guide a Fabrizio Santafede che rappresentava Sant'Anna con i Santi Ambrogio e Marco e affiancato da due quadri attribuiti a Jacopo Bassano con San Francesco e Santa Chiara che si dicevano provenire dalla cappella della chiesa carmelitana. Vi mostro quest'immagine di una pala di Fabrizio Santafede nella cappella d'Avalos via di Santa Maria di Monte Oliveto non perché abbia qualche rapporto con la pala che si trovava in Sant'Anna dei Lombardi ma solo per suggerire lo stile di questo artista contro riformato napoletano e anche per la composizione piramidale con la Madonna al centro e i due Santi in basso. Nel libello dell'Aversano, il notaio nominato prima, questi riportano una situazione dei patronati di cappelle che corrisponde a questa qui che vi mostro, mentre nel 1634 la visita pastorale dell'arcivescovo Francesco Boncompagni restituiva una situazione in cui ormai tutti gli altari, eccezione dei due del transetto, avevano un proprio patronato. Tra le opere più interessanti, anche perché conservatesi, ci sono i quadri di Carlo Sellitto provenienti dalla cappella intitolata San Pietro, la prima a sinistra, della famiglia dei Cortoni o Cortoni o Cortone, mercanti bergamaschi. Nella cappella Fontana, la terza a destra, affrescata da Belisario Corenzio, decorata con una pala con San Sebastiano dello stesso Sellitto, purtroppo non conservatasi, c'era invece il monumento funebre dell'architettoreggio Domenico Fontana, autore di Palazzo Reale, un monumento traslato nell'atrio d'accesso della chiesa di Monte Oliveto. La terza e la quarta cappella sul lato sinistro, o come si leggeva nelle visite pastorali, in Cornu Evangeli, furono decorate tra 1608 e 1612 da un marmorario fiorentino, Jacopo Lazzari. Il repertorio decorativo di marmi commessi, dispiegato nella cappella del Balzo in Santa Chiara, poco più avanti, nel 1616, ci può restituire un'idea dello scrigno policromo in cui si collocava una delle più rimpiante opere perdute della storia dell'arte occidentale. La resurrezione di Cristo, di Michelangelo da Caravaggio, che era affiancato da altre due tavole di formato orizzontale, con un San Francesco e un San Giovanni Battista, già nella cappella Fenaroli di Sant'Anna dei Lombardi, è distrutta e pare alla fine del Settecento a causa del crollo del soffitto della chiesa. Più volte è stato evocato dagli studiosi il debito che Cecco del Caravaggio, a Roma nel 1619-20, potrebbe aver contratto con un'idea caravaggesca per la poco più tarda resurrezione di Cristo, mai arrivata sull'altare Guicciardini in Santa Felicita, ma che potrebbe dare un'idea di quanto realizzato da Caravaggio a Napoli. Ci porta poi a Bigiù, in provincia di Varese, la vicenda umana di Sebastiano Longhi, che non solo possedeva in Sant'Anna dei Lombardi la seconda cappella a destra, dedicata a Sant'Antonio Abate, ma che era pure il proprietario di una cappella intitolata ai Santi Orsola e Giovanni Battista nella chiesa di Santo Stefano della cittadina Varesotta. Alcuni anni fa Margherita Frat Arcangeli ha riconosciuto la pala sull'altare come un'opera di Teodoro del Rico, pittore fiammingo naturalizzato napoletano della fine del Cinquecento, il che dimostrerebbe come opere del viceregno furono inviate, furono anche inviate in patria da questi mercanti e banchieri. Altri altari ancora erano decorati poi con palle di Battistello Caracciolo, non conservatesi, ma sembra interessante notare come nelle quattro edizioni della Guida dei Forestieri Curiosi di Pompeo Sarnelli l'autore scriva dapprima che erano presenti opere di Caracciolo, per passare poi a Caraccio, a Caracci e di nuovo a Caraccio, forse ipotizzando che la chiesa, siccome lombarda, potesse contenere opere di uno dei tre Caracci, tanto più che alcuni dipinti del Sellitto erano da taluni dati a Domenichino, a Napoli negli anni Trenta del Seicento. Dai primi anni Quaranta la chiesa poteva vantare anche una pala di Giovanni Lanfranco, che l'artista collocò sul proprio altare nel transetto sinistro, a conclusione della lite con i Certussini di San Martino. Quando l'altare nel 1675 fu acquistato da Guglielmo Samuelli, la tavola sarebbe stata modificata, forse addirittura per la seconda volta dopo alcune modifiche da parte dello stesso Lanfranco, da Luca Giordano, familiare dei Samuelli, mercanti veneziani. Presenza eccentrica era la cappella di Baldassarre Noirot, mercante fiammingo, che nonostante la nazionalità trovo spazio nella chiesa della Nazione Lombarda e che la Versano ci dice essere affittuario di una delle case di proprietà della chiesa. È interessante che nella cappella Noirot la pala d'altare fosse un'adorazione dei magi, attribuita da taluni a Chiara Varotari, una pittrice panovana d'inizio Seicento, di cui non sono note opere fuori dal Veneto. Negli anni 10 e 20 del Seicento continuavano le decorazioni delle parti comuni, come la cupola affrescata da Giovanni Balducci con Santi Lombardi e decorata con stucchi del maestro stuccatore Giacomo Peraca o Peracca. Nel 1618 fu acquistato il terreno e nel 1625 si iniziò la costruzione dell'oratorio, attiguo alla chiesa e intitolato al neocanonizzato San Carlo Borromeo. L'oratorio era costituito da un'aula unica e il suo progetto si doveva al lavoro congiunto di Giulio Cesare Fontana, figlio di Domenico, anche lui architettoreggio, e Bartolomeo Picchiatti, altro architettoreggio che aveva approvato il progetto e che in quanto di origine ferrarese era anche lui di diritto membro della nazione. L'oratorio fu poi decorato di ornati in stucco bianco dallo stuccatore bergamasco Domenico Nuvolone. Nel 1798 ci fu un terremoto a cui ne eseguì un secondo nel 1805 che rase al suolo la chiesa. Alcune opere sopravvissute al primo sisma e la sede della confraternita di Sant'Anne e San Carlo furono trasferite nella chiesa di Monte Oliveto tra i due eventi. Questo trasferimento ulteriore dovuto a esigenze pratiche causa tuttora un po' di confusione nel riconoscimento di quale Sant'Anna dei Lombardi si stia parlando. E' infatti solo dal primo decennio dell'Ottocento con le soppressioni degli ordini religiosi che fu possibile che liberarono la chiesa di Monte Oliveto dai Benedettini che Ferdinando IV nel 1801 offrì alla confraternita di Sant'Anna e San Carlo di occupare la chiesa di Monte Oliveto. Poche sono le opere che vi si trovano oggi provenienti da Sant'Anna dei Lombardi, quella di cui ho parlato finora, che passano poi in secondo piano rispetto alla sacristia di Vasari, alle cappelle Piccolomini e Correale, al compianto sul Cristo morto di Guido Mazzoni. Oltre al monumento funebre a Domenico Fontana nell'atrio della chiesa e alle tavole laterali della cappella Curtoni con storia di San Pietro di Carlo Sellitto, è anche presente il San Carlo Borromeo di Geronimo d'Arena sulla parete di fondo del refettorio affrescato da Vasari, luogo di riunione dall'Ottocento della neobattezzata Sant'Anna dei Lombardi. Il monumento funebre del conte Giuseppe Tribulzio, già a priore della confraternita alla metà del Settecento, pare si trovi smontato e ricoverato in uno degli ambienti accessori della chiesa. La nazione lombarda non contava al suo interno membri che avrebbero poi legato le loro fortune al viceregno. Il tentativo di impiegare artisti lombardi si limita a qualche episodio isolato, Caravaggio, gli Stuccatori, Giulio Cesare Fontana, forse Chiara Varotari e talvolta nemmeno del tutto dipendente dalla volontà dei committenti, si vede l'episodio di Lanfranco. Dall'impiego di Carlo Sellitto e Battistello Caracciolo, ciascuno in due cappelle, sembra potersi affermare che i lombardi fossero meno autoriferiti della scelta degli artisti di quanto non lo erano i fiorentini. Anzi, il fatto che si rivolgessero a Giovanni Balducci per gli affreschi della cupola della chiesa, forse in virtù del fatto che il pittore aveva già realizzato i quadri del soffitto per San Giovanni dei Fiorentini vent'anni prima ed era un abile frescante, sembra dimostrare un certo ritardo. Mi sembra un caso interessante in cui emulare le scelte fatte dai consoli fiorentini all'interno di una competizione viva tra le tre nazioni e le tre chiese e ben consapevole, si rivelò non molto assennata in termini di aggiornamento del gusto da parte dei governatori lombardi. D'altra parte, l'impiego di maestri stuccatori, tra gli altri del bergamasco Domenico Novellone e di Giacomo Peracca, probabilmente appartenenti alla stessa famiglia di scultori Giovanni Antonio e Giovanni Giacomo, il Valsoldo e il Valsoldino, che ebbero un discreto successo a Roma nella seconda metà del Cinquecento, l'impiego di questi stuccatori potrebbe corrispondere a un particolare gusto che i lombardi avevano per gli stucchi e a un tentativo di dare una connotazione lombarda alla propria chiesa. Sorprende infine che Cosimo Fanzago, massimo esponente dell'architettura e della scultura barocche a Napoli, sebbene bergamasco non sia stato coinvolto a leggere le fonti di cui mi sono servito nella decorazione della chiesa della sua nazione, se non contribuendo con quindici ducati alla raccolta fondi per costruire l'oratorio di San Carlo nel 1625 e risultando poi tra i suoi governatori due anni dopo. Infine, per i più pazienti, ecco i genovesi. I genovesi a Napoli godono della più estesa e varia bibliografia, riflesso di una presenza massiccia nel viceregno, di strategenze diative diverse rispetto alle famiglie fiorentine, loro principali competitors nei prestiti a re e vicerei, e dell'inserimento sia nel sistema feudale sia nelle maglie dell'amministrazione viceregnicola. Questa pratica avrà due conseguenze principali, da una parte i genovesi tra i gruppi nazionali che ho preso in considerazione oggi sono quelli che più di tutti entrano nella società napoletana, si fanno iscrivere nella nobiltà di seggio e si stabiliscono a Napoli. Dall'altra, questo processo, per così dire, di camuffamento, di ibridazione, indebolì la nazione genovese a Napoli, che appare fin dall'inizio come la più sfilacciata. Fin dal 1493 i genovesi ebbero il privilegio di poter avere consoli in tutti i regni soggetti e re cattolici. Questo fu un privilegio confermato anche da Carlo V nel 500. I consoli della nazione genovese potevano durare molto più del singolo anno di mandato che accumunava sia il console di Fiorentini, sia i cinque governatori della nazione lombarda. Tra il 5 e il 600 furono in particolare membri di diversi rami della famiglia Spinola ad avvicendarsi alla guida del consolato napoletano. Della peculiarità che mostravano i genovesi rispetto agli altri gruppi nazionali, era perfettamente consapevole Giulio Cesare Capaccio, che nello stesso dialogo che ho citato in apertura, imperversa per svariate pagine sulle numerose famiglie genovesi che avevano rallegrato e rallegravano ancora Napoli con la loro presenza. Il fenomeno era già noto da tempo. Nel 1597 l'ambasciatore veneziano a Napoli, Girolamo Ramusio, scriveva nella sua relazione del regno di Napoli che non solo i genovesi nel viceregno erano numerosissimi, ma avevano anche gran prurito d'ambizione e, cito dalla relazione, comprano feudi e si fanno titolati, che poi senza dubbio sono molto più cari al re che gli altri perché non gli sono sospetti per altezza di spiriti e servono alla disunione dei baroni del regno e a far che il re tenga sempre maggiormente la città di Genova nella sua dipendenza, con la minaccia di sospendere le entrate che hanno i suoi cittadini nel regno. Filippo II d'Asburgo, seguendo gli insegnamenti paterni, facilitava la concessione di feudi nel viceregno napoletano a munifici banchieri genovesi, con la doppia finalità di indebolire i baroni rennicoli e di legare sempre più a sé la città di Genova. I primi genovesi a cui furono concessi o che acquistarono feudi nel viceregno furono membri della famiglia Pinelli e di quella Doria. Il principe Andrea Doria era infatti signore di Melfi e Tursi dal 1531, Cosimo Pinelli era duca di Acerenza e signore di Giuliano, mentre più avanti Agostino Grimaldi divenne duca di Eboli, feudo che lasciò la sua unica figlia andata in sposa a Marcantonio Doria, secondo duca di Eboli e primo principe d'Angri. Feudi di Genovesi erano soprattutto in terra di Bari, terra d'Oranto e Calabria Ultra, la parte settentrionale della Calabria. Prima di farsi titolati comunque i genovesi a Napoli erano stati mercanti e a Napoli avevano una propria loggia, una sorta di mercato coperto in via loggia di Genova, nella stessa area dove si trovavano le rue Toscana, Francesca e Catalana. I genovesi possedevano anche una cappella, oggi non più esistente, nei pressi dell'infermeria della chiesa francescana in Santa Maria la Nova. Nel 1587 decisero di trasferirsi anche loro nel quartiere di Santa Marta e di modificare l'edificio che era una cavallerizza reale. Vi mostro a questo punto, dopo tanto virtuale, una chiesa che esiste davvero, che si trova a via Medina, purtroppo non visitabile perché chiusa in una visione con Google Street View di agosto di quest'anno, la pianta e un dettaglio dalla venuta del baratta in cui si vede abbastanza bene come il sagrato che permette l'accesso alla chiesa sia stato modificato probabilmente nel 700 perché alla metà del 6 c'erano due piccole rampe di scale e non quella unica e più monumentale che si vede oggi. Vi mostro qualche altra immagine non facile da reperire. La chiesa fu risparmiata dai lavori che invece sventrarono quest'area ed è possibile qui vederne la fiancata come non si può più oggi perché c'è quel grande palazzo alla sua destra. Così è come la chiesa appariva all'interno nella metà degli anni 40 del 900. La foto a sinistra la mostra come era nel 2017, l'ho reperita su internet, in un sito che sponsorizzava una raccolta fondi per la sua riapertura, mentre a destra ne vedete l'altare maggiore. Nel 1593 il console Lorenzo De Mari impose una tassa su tutte le transazioni che avvenivano a Napoli da parte di mercanti genovesi e l'esazione di questa tassa fu affidata ai governatori della chiesa della nazione Damiano Pallavicino e Marco Antonio Doria. Nel 1614 la costruzione della chiesa era ancora molto indietro e il console Giovan Giacomo Lago Marsino scriveva al Doge dicendo che gente trista, cioè poveri e mendicanti, si accampavano nell'edificio ancora in costruzione e aggiungeva arrecano pregiudizio a nazione così florida e numerosa abitante in città così principale. Nella visita pastorale del cardinale Gesualdo del 1599, quindi torniamo indietro di 15 anni, non viene nominato il patronato di nessuna cappella, come a suggerire che dopo l'iniziale slancio per il trasferimento in un'altra area della città fosse mancato quello ulteriore per procedere all'assegnazione dei patronati delle cappelle. La pala sull'altare maggiore, ancora visibile in chiesa, proviene dalla precedente cappella intitolata lo stesso santo ed è opera di Andrea da Salerno, il Raffaello napoletano e suo genero, Severo Ierace. Il trasferimento della pala d'altare dalla piccola cappella alla nuova chiesa nazionale non andrà interpretato come espressione della proverbiale parsimonia genovese, ma come la rivendicazione della sua provenienza da una cappella di più antica fondazione che poteva competere per prestigio con le rivali, la Fiorentina e la Lombarda. È possibile tuttavia recuperare i nomi delle famiglie più importanti e già presenti nell'amministrazione della nazione genovese negli ultimi anni del Cinquecento, servendoci di un inventario delle suppellettili allegato alla visita pastorale del 1599. Qui figurano cognomi come Grillo, Giustiniani, Spinola e furono certamente membri di queste famiglie tra le più motivate a trasferirsi e a occupare una nuova chiesa. Solo più avanti, dopo il 1620, data di completamento dello spazio sacro, come dichiarato da una lapide in facciata che nomina anche il console in carica quell'anno Francesco di Agostino Doria, le cappelle si popolarono di pali d'altare e il pavimento della chiesa di tombe terragne, tutte riportate con una data post 1620 da Carlo de Lellis nella sua aggiunta alla Napoli Sacra dell'Ingenio Caracciolo. Francesca Romana Gaia, amica e dottoranda dell'Università di Torino in un recentissimo saggio all'interno del volume Napoli-Genova-Milano, scambi artistici e culturali tra città legate alla Spagna 1610-1640, che mi ha permesso di conoscere quando ancora imbozze e che ringrazio pubblicamente, ha meglio precisato il ruolo svolto nella decorazione della chiesa da parte di Cornelio Spinola, console della nazione genovese a Napoli dal 1617 al 1649, pur con alcune interruzioni. La studiosa ha fatto luce sul milie culturale cui apparteneva lo Spinola, che decorò il suo altare con una pala di Giovan Francesco Romanelli con la guarigione dell'ossesso, ma ha anche chiarito come, sempre grazie allo Spinola, giunse a Napoli la pala d'altare di Domenico Fiasella, già sul quarto altare a destra di San Giorgio e Genovesi e oggi nella chiesa della Pietà dei Turchini. Questo dipinto era già stato rivalutato in occasione della mostra Civiltà del Seicento a Napoli, siccome vi fu riconosciuta nella Madonna Regina di Genova un'iconografia che era stata appena ideata dallo stesso Fiasella per far realizzare una statua in bronzo allo scultore Bartolomeo Bianco, una commissione di grandissimo rilievo compiuta nel 1651 e la scultura è oggi collocata nella cattedrale di Genova. Una pala con questa iconografia fu inviata non solo a Napoli, ma anche a Palermo, dove è ancora visibile in un'altra San Giorgio dei Genovesi più approfonditamente studiata e facilmente accessibile. L'iscrizione et rege eos allude alla proclamazione del senato genovese del 1637 con cui la Madonna fu fatta anch'essa patrona di Genova. La parte sottostante della pala con la rappresentazione della città di Genova, a volo d'uccello invece che con l'usuale silhouette, mette in valore alcune nuove emergenze monumentali, principalmente le nuove mura e il nuovo molo costruito nel 1638 presso la Lanterna, un'immagine del forte senso civico collocata in una sorta di ambasciata genovese all'estero. Altra presenza nazionale era la crocifissione dello stesso Fiasella, pure dei primi anni 40, nella quarta cappella a sinistra della chiesa, mentre tra le primissime opere che entrarono in San Giorgio di Genovesi, da poco portata a termine, vi fu verosimilmente il miracolo di Sant'Antonio di Padova di Battistello Caracciolo, nella cappella della famiglia Serra, baroni di Carovigno e oggi nel museo di Capodimonte. Resta di difficile spiegazione come alla fine del Seicento, nelle visite pastorali di Antonio Pignatelli del 1688 e di Giacomo Cantelmo del 1692, tutti gli altari, eccettuati quelli del transetto, risultassero sia decorati con una pala d'altare, sia per la maggior parte senza obbligo di messe, suggerendo che nessun patronato insisteva su di loro. Rispetto ai fiorentini e ai lombardi, i genovesi entrarono nel sistema feudale viceregnicolo e acquistarono feudi nel viceregno fin dal secondo quarto del Cinquecento. Una cappella dei Pinelli era in San Domenico Maggiore, una cappella Ravaschieri in San Giovanni Maggiore, la cappella di un altro ramo dei Ravaschieri in Santa Teresa e gli Studi, la cappella di Lanfranco Massa, agente di Marco Antonio Doria, nella chiesa dei Santi Severino e Sossio, mentre la committenza del Doria Medesimo si orientò soprattutto verso la chiesa della Santissima Trinità delle Monache. Questa disseminazione in diverse chiese napoletane credo possa quindi suggerire una nazione, se non da sempre disunita, come lamentava uno dei suoi consoli, certamente orientata fin dall'inizio a infiltrarsi nelle maglie del ceto dominante locale, appropriandosi anche dei luoghi che non le sarebbero stati di competenza. Tra 7 e 800 la situazione in San Giorgio e Genovesi è ormai mutata. Le nuove famiglie che godono del patronato di una cappella, gli imperiali e i saluzzo, non appartengono più a un'elite forestiera, ma ormai a un'elite che attraverso matrimoni e assennati acquisti di feudi si è fatta locale. Vorrei concludere con alcune note che riguardano tutte le chiese e che ambiscono a suggerire una sorta di metodo di ricerca. Lo spoglio delle guide cittadine rappresenta certamente la fase preliminare di questo studio. Queste restituiranno non solo informazioni sulle opere conservate nelle chiese, ma riportando ad esempio anche il numero e l'ammontare delle doti che ciascuna delle nazioni riservava alle proprie zitelle, possono confermare o smentire discorsi più complessi. Sono però le visite pastorali a restituire una serie di notizie inedite sugli edifici, non solo la menzione delle messe da celebrarsi presso gli altari delle cappelle o sull'altare maggiore indicano i membri della nazione sepolti nelle proprie chiese nazionali, ma gli inventari allegati alle visite riportano i colori e gli stemmi ricamati sui parati d'altare o i cesellati sui serviti d'altare, usurati dal tempo o fusi per andare incontro a nuovi impieghi, fornendo ulteriori informazioni sulle famiglie che periodicamente rivestivano gli interni della chiesa coi propri colori e stemmi. In un inventario dei beni mobili di San Giorgio del Genovese, ad esempio, sono numerosissimi gli angeli millennio che si diceva accompagnassero la cassa di San Giovanni Battista in occasione della processione che avveniva il 24 giugno, mentre non si leggono riferimenti precisi alle funicelle impiegate nella cruenta processione del Giovedì Santo, descritta con entusiasmo dal Dengenio che si diceva preoccupato per il fatto che la tradizione di attraversare la città flagellandosi stesse cadendo in disuso tra i pii membri di quella nazione. È solo dalle visite pastorali che si conoscono i soggetti delle tavole laterali di Caravaggio nella Cappella Fenaroli, che si riesce a ricostruire l'avvicendarsi dei giuspatronati delle cappelle, anche talvolta le visite pastorali confondono più che chiarire, o ancora chi governava la chiesa in un determinato momento e quindi prendeva le decisioni su che cosa e come farlo. Infine una provocazione. Se lo spagnolo Baltasar Suarez della Concia commissiona un San Giacomo maggiore per San Giovanni dei Fiorentini nel 1610, se il fiorentino Jacopo Vecchietti all'inizio del 600, eletto console della nazione francese a Napoli, scrive a corte chiedendo di poter essere esentato dallo stesso ruolo all'interno della propria nazione. Se Giovanni Battista Venatri, bergamasco, è già governatore della nazione lombarda, sposa una fiorentina, la figlia di Michele dell'erede e si fa seppellire in San Giovanni dei Fiorentini nella Cappella del Suocero, se nel 1620 tra i membri della confraternita dei Lombardi c'è un membro della famiglia Balbi e nel 1649 tra i suoi governatori c'è un Lorenzo de' Medici e ancora alla fine del 600 in Sant'Ana dei Lombardi c'è una cappella di patronato spinola. Possibile che l'idea stessa di nazione fosse per loro più elastica di quanto non riesca esserlo per noi? Grazie, ho finito.